Quando leggo, ma De Laurentiis è un padre padrone, ma De Laurentiis non ha messo delle persone al posto giusto in società. Io non credo, io credo che in Napoli abbia fatto in questi 17 anni una cavalcata senza precedenti, cioè è bene ricordare che quando io sono arrivato non esisteva più in Napoli.